Buongiorno, vi sono rimaste due lire in tasca, il governo vi ha lasciato due centesimi, non avete programmi per Ferragosto? Io ci sono, vi aspetto, Ponte di Legno, cuore della politica padana, buona gocina, ottima musica, sana politica, 14 e 15 agosto, io ci sarò perché mi rifiuto di morire Renziano.